benvenuti nel mio nuovo video oggi volevo farvi vedere dopo aver visto alcuni video su youtube come si fa a siliconare un box doccia oggi volevo farlo io e vi faccio vedere come lo faccio io questo box doccia è mezzo rotondo e come potete vedere da una parte abbiamo uno spazio molto stretto e dall'altra qui abbiamo uno specchio e sotto c'è anche la tavola di legna da questa parte è praticamente impossibile a siliconare e anche dall'altra perché abbiamo solo circa 6 7 cm per andare dentro allora tutto facciamo dal di dentro con silicone trasparente della parte sotto però la parte sotto facciamo dal di fuori perché dentro non possiamo farlo perché c'è anche la porta prima di cominciare ho pulito tutto con con alcol anche sotto per siliconare ci serve la pistola di silicone silicone sanitario trasparente è una spatola per tirar la fuga di silicone io comincio di sotto per la nostra fuga di silicone schiacciando la pistola la tiro in su regolare e fino su in cima qui sotto faccio la fuga ma solo fino a qua e per poter pulire più che altro dopo se la fuga di silicone si fa di fuori tutto lo sporco rimane dentro qua e non si può neanche pulire con tempo diventa tutto nero allora si riconiamo dal di dentro perché tutto lo sporco l'acqua e sapone così possiamo pulirlo via faccio anche l'altra parte solo fino a questo angolo qua e poi tutto lato andare su come avevo detto prima adesso siliconiamo la parte esterna in più tiriamo almeno 15 centimetri in su da parte così l'acqua anche se passa qualcosa non può uscire fuori un'acqua anche se passa un'acqua adesso con la spatola che ho qua tiriamo la nostra fuga di silicone senza aggiungere dell'acqua o sapone basta usare questa spatola e tirare regolare via il silicone io prendo la misura 8 e cominciamo da qua a tirarla e qua facciamo la stessa cosa adesso vi avvicino così potete vedere la fuga del silicone finita è perfetta e non c'è né sbavatura né niente quindi non bisogna aggiungere sapone o acqua adesso la stessa cosa facciamo qui dentro sempre con la misura 8 tiriamo via silicone che è di troppo qui è la nostra fuga di silicone finita io spero che questo video è stato utile per voi vi potete iscrivere sul mio canale per non perdervi i nuovi video grazie per avermi seguito grazie per avermi seguito